dovrei andare a fare un bisognino ma non mi portano perché l'ho detto neus i bei video non fanno più quindi posso dire che mi pare che bello il mio canale ha solo sei iscritti non mi importa io devo farlo e ragazzi stavo parlando tra me e me scusate ragazzo perché l'unico tizio che fa cioè io faccio solo una video sono poco famoso forse dovrei portare rimbo riesco ok rieccoci qui con il nostro meraviglioso vk ragazzi eccolo qua o essi ma prima di giocare volevo vedere una cosa questo qui non l'ho mai visto vi giuro forse è nuovo sto cararmato comunque ragazzi ho una cosa da dirvi su telefono ho un gioco che praticamente posso riuscire a armare su quel gioco no ecco praticamente ho costruito lo stag 3g e ragazzi comunque non c'è tanta differenza tra questo di uno stagione questo qui di ricostruttore comunque ragazzi vorrei provare tanto questo l'unico problema ragazzi è che non lo posso provare perché perché non ho il coso non so l'oro quindi mi arrangio comunque ragazzi volevo sbloccare anche il vk ragazzi questo qui 30.02 m e il panther perché ho visto che qui il panther 2 ragazzi è molto forte cioè a me mi ci hanno ucciso quando avevo il tiger p qualche colpa rimbalzato ma comunque ragazzi per sbloccarlo dobbiamo prendere il panzer 3 e sbloccare il dirge birch swag stand 2 il vk 30.01 h e poi il vk 30.02 m e a sto punto già che ci siamo mi prendo pure il tigre però devo ricomprare il tigre p perché è meglio se lo faccio col tigre p perché il tigre 2 costa di più se lo sblocco con il vk 36.01 h comunque voglio sbloccare tutti e due perché è praticamente con il panther il tigre 2 se invece lo sbloccassi con il tigre 1 78.000 con il tigre 1 dunque ragazzi a sto punto compriamo il tigre 1 e il panther appunto vorrei sbloccare perché il tigre 2 poi ci porta alle 100 perché è 75 ed è 100 mentre il panther ci porta alle 50 e le 50 m come vedete vedete la torretta del panther 2 c'è sulle 50 che poi cambierà e poi c'è le 50 m e ragazzi vorrei sbloccarli c'è il panther m10 ma è americano no tedesco vabbè ragazzi adesso che sapete le mie intenzioni beh anche il leopard 1 a dire la verità vorrei io voglio tutti i cararmati tedeschi ok l'ammetto a parte l'artiglieria l'artiglieria una cosa ormai mi fa schifo vorrei tutti i cararmati tedeschi quindi anche il jager panther ma perché io li ho visti in combattimento e tutti devo dire la verità tutti a parte leggeri così qui il ray mental panther e leopard 1 sono abbastanza veloci pure le 50 e il resto e 100 mouse questo qui il jager panther e 100 questo 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 sono lenti ora io li vorrei sbloccare per un semplice motivo perché mi fa a parte mi farebbe piacere averli e poi anche perché li ho visti in combattimento ve lo assicuro li ho visti in combattimento perché il vk 100.01 p gioca fino al livello 10 quindi li ho visti solo che prima di fare ciò vorrei sbloccare il mouse che è la mia priorità numero 1 dopo che ho sbloccato il mouse ragazzi vi spiego il piano che voglio fare dopo sbloccato il mouse vorrei sbloccare anche le 100 e poi ovviamente anche altri cararmati però dato che la nostra priorità è il mouse vediamo come vedete manca ancora un bel po e per poter poi sbloccare il mouse che veramente manca veramente tanto ma io quasi quasi neanche lo prendo questo pacchetto qua e perché il motore a dire la verità non serve tanto e ve lo spiego perché è molto veloce anche così a se il il vk quindi ragazzi ma direi di non perderci in chiacchiere e giochiamo speriamo siamo tutti i tier 8 ragazzi non ci siano tier 10 ragazzi piano piano arriveremo comunque a 73 mila e tranquilli come abbiamo abbiamo sbloccato il vk sbloccheremo il mouse ragazzi ovviamente cielo sempre in tedesco la playstation perchè il tizio parla in tedesco ed è troppo bello sentirlo c'è il centro cento ragazzi andiamo dentro alle 100 mamma mia ragazzi le 100 le 100 le 100 e grazie maia chianto è stato un po' è stato un po' è stato un po' è stato un po' C'è un pozzatecto! Beh ragazzi il mio desiderio Su World of Tanks Dico la verità E sbloccare un tier 10 E questo è il mio desiderio da un botto Credo che Adesso ho trovato la giusta determinazione Dal VK ragazzi 28.01 Siamo passati al TTRP E poi siamo passati al VK 100.01 E ragazzi per me È un traguardo veramente grande Per sbloccare il mouse Mi servirà anche il vostro Quindi ragazzi mi raccomando Mi potete supportare Potete supportare Questo World of Tanks Ovviamente iscrivendovi E lasciando un bel mi piace al video Così potrò trovare Non solo la giusta determinazione Ma saprò anche Che c'è Ho anche un supporto Da parte nostra E questo è un po' molto Comunque Mandare cianci e andiamo avanti Non l'abbiamo fatto 10 E arrivando tutto Anche l'anno Quindi ragazzi Anche l'anno Non l'anno Vabbè Non ho fatto niente Non ho fatto niente Raga Non ho vinto dai Quello che mi fa Quello che mi fa Non si carica Che mi fa ruotere Più o meno Non ho fatto niente Sono 107 danni Una ghina Ho detto Indian Panzer Levate Su 101 Su 101 l'ho messato, non ci vedo e poi manca solo lì chi è fine che è morto sta sbagliando abbiamo vinto e vabbè raga facciamo un'altra battaglia, sì mamma mia ragazzi, a panama siamo finiti va bene finiamo pure a panama ragazzi ma ragazzi non carica? ok perchè ci devono essere i tier 9 oh mio dio vediamoci sto ad altro vk 100.01 qui? no né nella nostra squadra né nella squadra non sappiamo che il T95 provenissi dal T28 ragazzi perchè non guardo mai il centro la gara al maglio ha detto la gara al maglio ha detto la gara al maglio ha detto era troppo l'altro in scegliere Fisciano, buc'ambole Grazie, non fate caso che l'ho detto possibile Allora ragazzi Oddio, lei è tutta B Chiamiamolo male, ragazzi No, oddio Oddio, via Via, aiuto No ragazzi, mi fanno male qua Ragazzi, mi fanno veramente male Ciao, sbollai Adesso, non ti dannesio Udile, carretti Ragazzi, a quanto pare la battaglia si dovrà svolgere qua Dicento Cosa un'unizione Fanno i geni a panza Oh, raga, è davvero strumento Che regalo, ti aiutano poi Guardate, eh Sartiglieri a missa Come fa ad avere Vabbè Aspettate Vabbè Io posso Sto su Qui non si sa che deve fare E' inutile Guarda pure livello 8 No, è livello 9 È livello 9, ragazzi Inutile Questo qui Vabbè Vabbè Non si sa Questo qui sta fa qualcosa E' l'unico Questo qui non sta fa niente Abbiamo perso Ragazzi Adesso osserviamo Gli incredibili doti Di combattimento loro Io almeno ho fatto qualcosa Però loro no Perché io almeno sono andato lì L'ho distratti un po' Gli ho sparato Gli ho fatti danni No, no, no Basta che restano Camperati lì Non puoi vincere Su Guardiamo questo Che ho visto Dali feed Gatti la dono Dai Sparai 831 Buono Dietro Perla Abbiamo perso Che v'ho detto io Che vedi il futuro Allora ragazzi Andiamo un attimo Ok ragazzi Scusate Ero andato un attimo Che mamma Mi aveva chiesto una cosa Eh ragazzi Questa è l'ultima battaglia Che giochiamo Ragazzi Se si terminerà così Il video Senza neanche Outroom Perché È durato troppo Quindi si firma Si stoppa da sola La registrazione Quindi ragazzi Se questo video Non ha l'outroom Sapete le solite cose Che dico Che è un bel po' Che le dico Quindi ragazzi Se non ci sarà L'outroom E si terminerà così Di improvviso Non mi spaventate Perché non sono io È perché È proprio così Poi ragazzi Vabbè Non mi spaventate 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi può ammazzare. Ricerche 20 minuti. Qualcuno deve andare a difendere la base, non posso. Ricerche 20 minuti. Ricerche 20 minuti. Io ho fatto l'impossibile ragazzi. Comunque, ragazzi, io termino qua il video. Spero che sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi. Condividete questo video con i vostri amici e iscrivetevi al canale così potrete attivare la campanellina. E non perdervi le novità o i nuovi video. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Bella! Oddio no raga, voglio termine il video, ok.